Questa tastiera o questa tastiera? Scegli questo o questo? 3, 2, 1 Ciao Ciao Ciao, ciao, ciao Ciao, 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 ciao Grazie di essere qui 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 Qui, 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 con me, oggi, oggi, oggi Io so che nelle video di tutti i giorni dobbiamo prendere anche solo delle micro decisioni e questa cosa ci può un po' stressare, no? Quindi questo video è fatto anche per questo per aiutarti a prendere delle decisioni minime, ok? Per cercare di rendere meno stressante questo processo che comunque, bene o male, va gotto ogni giorno e spero davvero possa essere di aiuto Me lo auguro, me lo auguro, me lo auguro Oggi voglio fare una tipologia di video che è molto popolare all'estero da un bel po'... Finalmente mi sono decisa a farla e si chiama This or That e, cioè, questo o quello è un video in cui dovrai fare delle decisioni quindi che ti darà anche, diciamo, terra l'attenzione su questo video e spero che spariranno tutti, tutti, tutti invece i pensieri esterni per poi avere la mente libera e poter dormire Come funziona? Ci saranno parecchi oggetti divisi sempre in coppie Vi faccio subito il primo esempio non perdiamo tempo Ti chiedo di scegliere fra questa tastiera o questa tastiera quindi questa o questa Ora, come funziona? Io ti farò sentire entrambe te le farò vedere bene e tu dovrai semplicemente scegliere in base ai tuoi gusti in base ai tuoi criteri non importa che criteri sceglieresti questa o questa e così sarà per vari oggetti e vari trigger ok? Quindi, per prima cosa, se ti piace come idea se ti piace come video metti mi piace ora grazie e ogni volta che scegli commenta basta un commento unico come dici tastiera bianca quanto rosa con lana col cuore mi sto facendo molti spoiler altra istruzione adesso apri un commento e scrivici tutte le volte che deciderai qualcosa la tua scelta e alla fine commenta con tutte le tue scelte ad esempio scriverai che ne so tastiera bianca poi ci sarà con lana col cuore poi ci sarà non mi ricordo adesso agenda questa agenda ecco tutte le tue scelte in un commento mi raccomando ci tengo molto cominciamo subito quindi prima scelta tastiera bianca o tastiera multicolor andiamo a vederla la prima opzione è questa tastiera bianca lo adoro molto molto minimale la prima che non non che 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 E questa è la prima opzione. La seconda opzione è questa tastiera, molto diversa. I tasti sono molto molto più alti, alcuni da maggior parte sono bianchi. Su base, la base interna è colossalia, alcuni però sono gialli e alcuni sono lille, come la base interiore. È decisamente meno minimale, ci sono tutte le emoji, qui ce li invio. Anche il suono è molto diverso. Direi che è meccanica. Puoi sentire anche la molla, se ascolti bene. Ok, adesso che hai valutato tutti i fattori, scegli questa o questa, o quella si direbbe, this or that, bianca o colorata. Prendiamola così. Minimale, un po' esosa. Scegli, scegli. 3, 2, 1. Ok. Seconda scelta che devi fare è fra due agende. Queste due. Adesso te le farò vedere, te le descriverò e tu sceglierai quale ti piace di più, quale più adatto a te. Ok? Cominciamo dalla prima, ovviamente più particolare. È un bianco più sporco, avorio quasi. Sì, è sopra stampati dei disegni bruttissimi. Vorrei dire una cavolata. Ma direi di sì. All'esterno vedi è fatto di carta spessa, diciamo che la carta sembra la stessa che poi c'è all'interno. è proprio lo stesso materiale, semplicemente più spesso, probabilmente con un cartone è in mezzo. Però vedi? È tutto un po' imperfetto. Lo spessore non è uguale. Si vede che è fatto male. I fogli sono spessi, in carta riciclata. Sono belli, belli spessi. È bellissimo scriverci sopra. Personalmente mi piace molto. Guardiamo bene questo. Seconda opzione, questa agenda. Molto più bianca. le scritte sono molto diverse. I disegni sono molto diversi. Sono lungo tutta la superficie. C'è proprio uno scalino. Lo senti? Non è uniforme il disegno. I disegni sono uno stile leggermente diverso dall'altro. L'ampatina. L'aereo. E sono anche i segni che riusciamo a comprendere rispetto all'altro. I fogli dentro sono diversi. Sono molto più bianchi. Sono caratterizzati da tanti tanti puntini. E sono in carta classica. Sono decisamente molto spessi. È un guadernino un pochino più classico. È un guadernino un pochino più classico. Ma adesso hai avuto tempo di scegli. Scegli questo. O questo. Quello avorio buddista. O quello bianco con tutti i disegnini moderni. Diciamo così. Agenda un po' antica. O agenda moderna. Scegli, scegli, scegli. 3, 2, 1. Ok. Prossima scelta è fra questo o questo. Abbiamo due guanti molto diversi tra loro. Anche qui la tua decisione può essere sulla base di ti piace più questo suono o ti piace più questo suono ti piace più il giallo, ti piace più il rosa o per la loro funzionalità. Questo è sfogliante e questo invece per lavare i piatti. Ma andiamoli a vedere nel dettaglio per farti decidere meglio. questo è un guanto giallo. Con il faccino di... Vinite bu, vinite bu, vinite bu. Bu bu bu. Bu bu bu. Lasino in bocca. E appunto un guanto... Esfogliante. Esfogliante. La usa naturalmente. E' super abbagliante. Comunque umidà. Anche... Le richiede di venite bu. Senti... Sentiamo il suono. Questa è la prima opzione. Seconda opzione. E' questo guantone. Te lo faccio vedere da più vicino. Molto grande, come vedi. Ha una parte... In gomma classica. Con giusto un pochino di pollini a rilievo. Ma l'altra parte è quella un po' più speciale. Perché ha tutti questi denti. In silicone. Mi piace molto da starci. Le mani... Molto sottili. Le mani... E' bellita. E' una delle mie sue microfridie. Non penso che da più. Quindi ora devi scegliere questo o questo 3, 2, 1 Hai scelto molto molto bene Non è facile prendere una decisione E magari questo video leggero potrà sbloccarti anche un po' l'ansia nel prendere decisioni e fare scelte Perché no? Prossima scelta, abbiamo la scelta fra due collane Abbastanza diverse dai Adesso andiamo a vederle più da vicino così riuscirei a scegliere meglio La prima opzione è questa collana color oro La catena è un po' particolare Ma questo sono qui Sembra quasi una zip Andiamo a vedere il ciondolo Sono a superficie non liscia Un pochino lavorata Ha il simbolo del sagittario E ha 3 brillantini Blu E 3, mi sembrano, 2 Brillantini gialli Oro Molto bella Anche dietro si vede come non si ha uniforme Non si ha liscio E di forma circolare Guardiamo la seconda opzione È una collanina più corta Una collanina di inizio collo Non è in oro giallo Ma è in oro rosa Non è un ciondolo Ma c'è un cuoricino Con tante brillantini Che è inserito nella collana Nella catena Quindi è diverso dall'altro Questo ciondolo è a forma di cuore E contiene tanti tanti piccoli brillantini Lo trovo molto delicato Anche la catena è diversa E' proprio questa volta una catena Con tanti piccoli anellini incastrati tra di loro Quindi Adesso ti chiedo Di scegliere Tra questa O questa Quella Con il sagittario Oro O quella Oro rosa E con il cuoricino Scegli 3 3 2 1 Scelto Molto bene Stai andando Alla grande E sono super 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 Vira di te Adesso passiamo A una delle scelte Più difficile Per quanto riguarda Perché la scelta Avrà due tazze Forse il mio oggetto preferito al mondo E dovrei scegliere fra Questa tazza natalizia O questa Tazza natalizia Lo so è molto difficile Ma ci proviamo Te le descrivo La prima opzione E' deliziosa E' rossa Con il manico Alato Ed è composto da due parti La tazza E il coperchio Per tenere La tisana In caldo Con tutti questi cuoricini Anche sopra Questa è forma di cappello Di Babbo Natale Geniale Sotto Abbiamo Una parte Che rappresenta I capelli Di Babbo Natale Ma non sono Anche la base Nel suo cappello Soprattutto Sotto Sotto abbiamo Il viso Di Babbo Natale La barba bianca E sotto ancora Babbo Natale Intento Ha porto i regali A porto Nella sua slit Con una rem E ci sono anche delle stelline 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 Perché è notte Ed erano Il 24 dicembre Questa è la prima La seconda opzione Per me E' altrettanto Deliziosa E' una tazzina Sicuramente Più piccolina A forma Di Stivaletto Sopra Ha la scritta In tedesco Non lo so Fatti questa bene Dati i mercatini Sotto Al per vedere Piano Ha una forma Molto realistica Perché ci sono anche Le pieghe Dello stivale Molto carine Il manico è dietro Quindi se lo guardi Da davanti Non lo vedi E dentro Proprio Si inserisce Il liquido Anche Nella parte Dentro Il suono Sembra quello Di tante Piccole Campanelle Quasi Musco Musco Il pascolo Ma se ci appoggio Lo faccia Il suono Diventa Chiuso Te le ho descritte a sufficienza Quindi Ora dimmi Questa Pappo Natale O questo Scarpone Scegli Scegli fra 3 2 1 Scelto E hai commentato la tua scelta Ok Molto bene Sempre più difficile Passiamo A qualcosa riguardante Il gusto Ti chiedi Scegliere fra questo O questo Adesso ti faccio vedere cosa sono Ricordo Ricordo Che puoi scegliere In base ai tuoi gusti In base all'estetica In base al suono Il criterio Lo scegli te La prima unzione In questo caffè È Cagnelo Intenso Balanced coffee With a light clean finish Perfetto For your daily brew È aromatico Fruttato Intenso Bellrico Così viene descritto Adesso Andro la fantasia Ricorda molto appunto il Kenya Ci sono i colori della bandiera Spero tu riesca vedere dentro Come vedi Il caffè Già macinato E prova A sentirne L'odore Ricorda Fruttato Aromatico Intenso Buonissimo Ma anche Molto particolare Un po' diverso Dal solito caffè Quindi E questa è la prima opzione La seconda opzione È in questa splendida Splendida Confezione Tè verde Allora le confezioni in latte Il coperchio Il coperchio Questa parte Lo apriamo Senti l'odore Di te Molto Molto diverso Da quello del caffè Aggiun E Grazie a tutti E questa è la seconda opzione Ora che te li ho mostrati bene entrambe, scegli questo o questo 3, 2, 1 Grande! Grazie alla tua scelta Abbiamo le ultime due scelte e poi va Adesso ti faccio scegliere fra questo o questo Te li mostro per bene La prima opzione è questa saponetta La vegetale dei provinciali Puoi adorarla se vuoi Sa tanto tanto di pesca Infatti a gusto pesca e albicocca È un odore che mi fa impazzire Fresco, estivo, buonissimo La zona di pesca è uno dei miei preferiti in assoluto Proprio Pesca e albicocca poi insieme Poi è incredibile È un sapone vegetale Puoi usarlo per il corpo Qui c'è una pesca Qui c'è una pesca E qui ci sono le due picocche Ok Andiamo a vedere l'altra opzione La scatolina in questo caso è diversa È in cartoncino È di colore giallo È un po' rovinato ma questo è colpo via E questo non è un sapone Ma un balsamo Solido Ecologico Seroplastica 100% naturale Questa volta Di aranzo E limone Quindi anche l'aroma è questo E anche dentro Balsamo solito per capelli normali O fini Lo apriamo In realtà dentro ci sono rettangolini Che bello E queste Sono le tue opzioni Quindi sapone O balsamo Ricorda che puoi scegliere in base a Mille fattori L'importante è che tu faccia una scelta Sapone O balsamo Tre Due Uno Ok Ultima scelta Abbiamo due cettini molto simili ma molto diversi Sono un lip gloss e un burro cacao Burro cacao colorato Andiamo a vederli La prima opzione è un pack più piccolino Argento Con la scritta del brand in rilievo Non si vede di che colore è il prodotto A parte Qui Sul fondo E fatto un pochino rossetto E dentro È di questo Rosa molto chiaro Che in realtà è risolto trasparente Me lo vado ad applicare Un polioso Vedete? Trasparente Molto piccolino E questa è la prima opzione Poi ti propongo invece Questo 21 Gummy Beer Il pack è molto diverso Si vede subito Il colore del prodotto all'interno Che è un rosa Devo dire È molto Molto simile C'è il tubetto E poi intorno è trasparente Invece il tappo È color nude Qui la scritta non è in rilievo Ma anzi È scavata Dentro il pack Questo è più lucido È pensato per essere un lip gloss E si vede Ha Un odore dolce Appunto un po' di shaving gum Ma buono Un po' di shaving gum Alla fragola Lì l'applicazione è leggermente appiccicoso Più lucido È proprio il lip gloss Quindi Ultima scelta Che farai oggi Mi scegli Questo O questo Tre Due Uno Perfetto Perfetto Allora intanto Ti ringrazio Di aver accettato Questa sfida Delle decisioni Non è facile Non è facile Prendere una scelta Quindi Sono molto Molto fiera Del tuo lavoro Io Penso proprio Penso proprio Ma penso proprio 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 Si aggiunta Giunta 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 L'ora 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 Di 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 Abbassare Le luci E augurarvi Augurarti Augurare A te A te A te A te Una buona Buonanotte 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 Sogni d'oro Sogni d'oro Sogni d'oro Sogni d'oro Good night Good night Good night Sweet sweet dreams Sweet sweet dreams Tic 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 t buona notte amica di pasticci alla mente regolata e vi mando un bacione e adesso vi lascio un estratto di alcuni suoni in avanza da questo video quindi di alcuni suoni che ho trovato particolarmente rilassanti in questo video non toghi, quindi questa parte sarà non toghi comunque un bacione che li spera a presto a presto a presto a presto e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.